buongiorno ragazzi se volete sostenere questo canale lo potete fare gratis iscrivendovi al canale sta comparendo la scritta sotto ed attivando la campanellina non siete obbligati a farlo ma se volete sostenere questo canale lo potete fare gratis decidete voi non lo so dove è cinese ma io ieri ho visto una squadra forte per l'ennesima volta ho visto una squadra matura una squadra che mi rappresenta in toto una squadra di gente che lotta una squadra che gioca con la testa una squadra che a differenza dell'anno scorso ti misura i battiti e poi pam colpisce perché eh all'inizio l'Inter stava controllando eh il fraseggio iniziale venivano eh le due squadre aggredivano aggredivano tutti e due al primo possesso di palla ma questo non ha messo in apprezzione l'Inter ma ha messo in apprezzione la Lazio che poi ci fa il regalo di Natale e ci apre un'altra strada ma l'Inter non stava subendo nulla ha fatto una gran bella parata Sommer su Sommer quando quest'estate ti dicevo dov'è Sommer? Sommer dov'è? Io guardando la Bundesliga lo conoscevo bene Sommer come conoscevo bene Turam perché per dire prendiamo Turam fortunato e lasciamo correre la Lazio vuol dire Turam lo conoscevo a proposito di Turam togliete la clausola a Tikus Turam sono circa sessantacinque giorni che lo dico lo dico da sei gold fa eh attenzione e da quattro assist fa togliete la clausola a Tikus Turam perché è un giocatore devastante ti devasta decide lui come andare via se è di tecnica o di potenza ma di cosa stai ragionando? Di cosa ragioni? Sommer per tecnica di parata segui per tecnica di parata è più forte di Onana nel complesso secondo me Onana è più forte di Sommer non me ne frega nulla di quello che sta facendo Onana al Manchester United anche perché Onana è un portiere molto emotivo a differenza di Sommer sono due portieri totalmente diversi per tecnica di parata per il posizionamento Sommer è più forte di Onana ma per me nel complesso Onana è più forte di Sommer se vuoi sapere come la penso non per nulla è stato il miglior portiere della Champions League Onana è diventato un blocco tutto insieme ora vedo tifosi interisti che godono gli errori io non godo ad uno è stato mandato via perché non avevamo una lira una lira con le larmi agli occhi io non godo perché un portiere viene mandato via e con le larmi agli occhi ti dice un giorno ci rivedremo Inter capito io non godo ad un ragazzo che fa degli errori che è interista che vuole bene all' Inter a differenza di qualche di un altro è scappato quindi una squadra in totale controllo poi dopo eh questa è un Inter che sa gestire le forze è un Inter maturata sia tecnicamente che atleticamente eh che è proprio eh in armonia una squadra che gioca in armonia io ieri ho visto una roba spettacolare che nessuno dice ma te lo dico io ma è la mia opinione eh io ti dico quello che ho respirato io guardando la partita tutti si sono messi al servizio dell'anello debole della squadra che ieri l'anello debole della squadra era bisteccone e bissec io ho visto anche Barella dare una mano a Darmian raddoppiando quelli che andavano ad attaccare i bissec perché nel secondo tempo attaccavano sempre di là perché Sareghi diceva ah vai sui bisteccone perché hai il punto debole bisteccone ieri ha fatto bene non ha fatto male bisteccone io però ha perso una palla sanguinolenta sulla fascia che poi sono venuti giù e ci è mancato poco sbaglia troppi troppi appoggi mentre per quanto riguarda la falcata non ha paura di tentare la giocata quando quando è in corsa perché eh sfrutta molto più il fisico e la tecnica quindi io bissec ad oggi non lo vedo assolutissimamente pronto come eh braccetto tantomeno nel ruolo di Ascelbi dove giocava lui in Danimarca è anche vero che questo è un ragazzo che fino all'anno scorso giocava con le noci ora si ritrova nell'Inter eh a giocare titolare non è semplice ragazzi questo non è Samuel eh capito questo non è eh non è Lucio cioè capito non è un è nato già fuori l'asse questo ragazzo si deve fare esattivamente a Cerbo lo vedi è spesso fuori posizione infatti anche ieri fa bella figura perché la fase difensiva gliela fa tutta Darmian lui fa solo le falcate motivo per cui ad oggi io lo vedo riserva di un esterno tutta fascia io lo vedo in quel ruolo lì non lo vedo in difesa né braccetto né tanto meno centrale ma lo vedo esterno perché ha una bella falcata prova la giocata sfrutta il fisico ma a livello difensivo è a Cerbo questo ragazzo poi riescerà può migliorare ci mancherebbe già migliorato se ti ricordi a Benfica lui c'è a Benfica la squadra dice ridere un po' tutta ma lui ci fa prendere due golli quindi sempre fuori posizione non ne ha beccate una quindi calma calma quando ha giocato con Danfri si è quadrato ha fatto ridere parliamoci sinceramente perché perché Darmian gli ha coperto le spalle a proposito di Darmian Darmian è un giocatore clamoroso che andrebbe clonato oltre a volerlo tutte le mamme come fidanzato per le proprie figlie Darmian è un giocatore e qualsiasi squadra forte vorrebbe perché ti fa due tre ruoli è un ragazzo serio si allena si pettina sempre prima di entrare in campo e ho fatto gli scherzi Darmian ragazzi è una roba allucinante non l'ho mai visto giocare male da quando è arrivato all'Inter Darmian da quando è arrivato all'Inter non l'ho mai visto giocare male mai come a Cerbi eh ci mancherebbe non li ho mai visti giocare male questi due io ma soprattutto Darmian è una roba impressionante ieri copre le spalle a Bisseg Barella partita clamorosa ieri ho visto Barella dare una mano a Darmian che stava coprendo le le spalle a Bisseg a Bisseg perché ieri tutta la squadra si è messa a servizio dell'anello debole spesso difendevamo a cinque dietro quello vuol dire c'è una grande armonia e tutti i giocatori sono disposti a sacrificarsi per il compagno e questa è una roba che ti fa vincere quando c'è questa armonia è un'arma in più per la vittoria lo vedo un po' come Davide Luiz Bisseg no? Te lo ricordi? Vabbè che è arrivato ad altissimi livelli ma giocava meglio ma lo mettevano esterno difensivo senza compiti di marcatura e quando giocava centrale è come lo vedo Bisseg però da ieri ripeto nell'uscita palla nella falcata ha fatto venino in difesa lo vedi spesso fuori posizione sbaglia gli appoggi mentre gli appoggi non li sbagliano quando è in corsa perché è forte fisicamente ha una bella struttura tiene la gamba ferma capito? Però vediamo dai pensavo peggio ti dico la verità va bene va bene anche il bisteccone per quello riguardo Lautaro Martinez ragazzi vi voglio ricordare una cosa che l'anno scorso c'erano interisti che criticavano Lautaro Martinez ed io non si sa con quanti interisti ho discusso perché sbagliava i gol facili non faceva gol io ti dico che Lautaro Martinez è un fuori classe ma ti voglio dire anche un'altra cosa che Lautaro Martinez questo rendimento ce l'ha anche grazie a ticusturam a cui va tolta la clausola ciao inter grazie a tutti i grazie a tutti i